L'asilo nido e scuola d'infanzia paritaria Fabilandia è situato a Termoli in via Venezia 95. Dal 2010 offre servizi all'infanzia dai 3 ai 36 mesi. La struttura è situata in zona tranquilla e i locali, completamente ristrutturati a misura di bambino, consistono in circa 500 metri quadri tra arredi interni e giochi esterni, che oltre a rendere divertente e piacevole il soggiorno dei bambini, garantiscono loro anche il massimo della sicurezza. Le aree interne sono attrezzate per attività didattiche, psicomotorie e di gioco libero, suddivise per fasce d'età, oltre a zone adibite esclusivamente al riposo, ai servizi igienici e al pediatra affiliato alla struttura. La parte esterna è composta da terrazzo ricoperto con ribetta sintetica per attività motorie e di gruppo e uno spazio verde recintato, adibito a parco giochi con scivolo, giochi a molla e casette. Il personale, suddiviso per fasce d'età, è il fiore all'occhiello della struttura per professionalità e responsabilità, garantendo a grandi e piccini giochi e attività atti al loro sviluppo psicomotorio. Vieni a trovarci e potrai vedere con quanta attenzione ci prendiamo cura del tuo bambino e delle tue esigenze in un ambiente sano e sereno.